Ciao a tutti! Oggi prepareremo le spigole o branzini con verdura alvaroma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono spigole, acqua, sale, patate, pomodorini, carote, sale, olio, vino bianco, pepe, aromi per pesce e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo messo le spigole nel vassoio del baroma con un foglio di carta da forno bagnata e strizzato. Mettiamo le patate, le carote, i pomodorini, gli aromi per pesce, il sale, il pepe, il prezzemolo, un po' di vino bianco e l'olio. Mettere nel boccale l'acqua, il sale, chiudere con il coperchio, posizionare il varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 35 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Il pesce e le verdure sono cotte, servire. Spigola o branzino con verdura alvaroma. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.